Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Siamo Gianluca, Alessandro e Claudio, tre amici che si sono conosciuti ai tempi dell'università a Pollenzo. Siamo molto diversi tra noi ma condividiamo una grande passione per l'enogastronomia, per tutto o quasi tutto ciò che è edibile e potabile. Una di quelle amicizie costruite tra piatti di pasta e bottiglie di vino. Questo spazio si chiama Juice It Up! perché quello che faremo è spremere e tirare fuori tutto quello che c'è di interessante e innovativo nel mondo dell'enogastronomia. Stay Juice! Il viaggio è appena iniziato! Siamo Ale e Claudio e insieme a Gianluca siamo i fondatori di Juice e di questo podcast. Oggi avremo con noi Alessandro Ceretto che è uno dei membri della terza generazione ed è l'enologo dell'azienda vitivinicola Ceretto. Oggi Alessandro ci guiderà alla scoperta della storia e della filosofia produttiva della sua realtà. Parleremo di viticoltura biologica e soprattutto di viticoltura biodinamica. La biodinamica è stata infatti una delle tematiche al centro del nostro episodio di interludio, l'episodio 40 e come sapete amiamo coinvolgere ospiti che siano esperti e che possano approfondire tutti o perlomeno tanti argomenti che trattiamo forse superficialmente all'interno dei nostri interludi. Alessandro siamo super felici per questo motivo di averti qui e benvenuto su Juice It Up! Grazie a voi per avermi invitato. Grazie per aver accettato l'invito. Come sempre noi partiamo chiedendo all'ospito una piccola presentazione quindi ti chiederai chi è Alessandro Ceretto. Ci puoi raccontarci un po' quella che è stata la tua storia, le esperienze e il tuo percorso professionale? Sì, allora io faccio parte della terza generazione della famiglia Ceretto. Siamo produttori in Langa nella zona appunto tra Alba, Barole Barbaresco e Santo Stefano Belbo per quanto riguarda il Moscato. Sono nato in mezzo alle vigne, ho iniziato gli studi tecnici già alle superiori perché qua ad Alba abbiamo una delle poche scuole enologiche che ci sono in Italia. e successivamente ho incominciato la mia esperienza viticolo-enologica facendo delle vendemmie in giro per il mondo. Sono stato in Australia da Brian Crozer all'azienda Petaluma, in California nella Napa Valley da Joseph Phelps Vineyards, Chateau Margaux nel Bordolese e Boshendal nella zona di Stellenbosch in Sudafrica. Successivamente sono rientrato e ovviamente da giovane avevo neanche 30 anni, ho affiancato la squadra tecnica che gestiva mio padre, perciò ho cercato di imparare quello che era appunto il modo di fare vigna e vino alla Ceretto. Dopo 10-15 anni ho preso le redini, cioè sono diventato responsabile tecnico a tutti gli effetti, e ho incominciato a cercare di fare i vini come li volevo fare io, partendo da un presupposto che mi balenava sempre sulla testa. Siamo in una zona dove si parla tantissimo di terroir, però io solitamente assaggiando i vini riconoscevo alla cieca la cantina di produzione e facevo più difficoltà a identificare, fare un esempio, i vini che vengono da Serralunga rispetto ai vini che vengono da Monforte, da Castiglione Falletto o nell'ambito di Barbaresco, da Barbaresco, Traeis o Neve. Perciò sulla base di questo ragionamento ho pensato che il terroir, essendo fatto da il clima che non possiamo cambiarlo, il vitigno che non possiamo cambiarlo, e l'uomo, ho pensato che per poter capire al massimo il terroir, di eliminare tutto quello che era apportato dall'uomo, soprattutto perché l'enologia già da 20 anni, ma da sempre, oggi ancora di più, con la tecnologia ti permette di fare tantissime cose e perciò poco per volta ho cercato di togliere tutto quello che era dalle tecniche enologiche più forti, quali erano l'utilizzo del legno, perché un po' prima degli anni 2000 nella zona del Barbaresco arriva la barrique e io ho sempre pensato che il legno utilizzato come lo utilizzano in Francia o comunque dove la barrique è fondamentale ed è sempre stata usata, forse eccessivo, cioè che il nebbiolo non si sposa benissimo, poi soprattutto perché qualsiasi cosa che tu aggiungi al vino copre le caratteristiche del terroir e capire il terroir, come ne parlano in Borgogna, che se ti muovi di 10 metri il vino cambia, ovviamente bisogna eliminare tutto quello che non arriva dalla vigna, non arriva dall'uva, perciò ho incominciato a rivedere tutte quelle che erano le tecniche enologiche e nello stesso tempo ho anche cambiato il mio approccio in vigna. Questo perché durante un salone del gusto mi era stato regalato un libro scritto da due esperti del suolo della Borgogna, che sono Claude e Lydia Bourguignon, in cui loro praticamente vanno in giro facendo profili di terreno per poter dire qual è sia lo stato di salubrità e sia qual è la vocazione del suolo, facendo profili praticamente ovunque, in Francia, in Italia, in Spagna, in giro per il mondo, in Nuova Zelanda. Nel loro paragone, se dovevano confrontare il metodo convenzionale col metodo biologico e il metodo biodinamico, il loro punto di vista era sempre che un suolo più sano arrivava sempre da vigneti biodinamici a scendere da vigneti condotti in biologico e per ultimo quelli condotti col metodo convenzionale. Questo anche perché la tecnologia in un mondo economico ha sempre spinto per ridurre i costi e ridurre i costi porta alla meccanizzazione, la meccanizzazione ha sicuramente appunto dei vantaggi perché ovviamente con delle macchine tu puoi permetterti di fare dei lavori che magari manualmente costerebbero molto di più, però ovviamente l'utilizzo della macchina ha anche i suoi lati negativi. Perciò poco per volta, sempre con l'aiuto appunto di Claude e Lydia, abbiamo incominciato a profilare tutti i nostri vigneti che sono abbastanza perché noi siamo proprietari di diversi cru nella zona del Borò del Barbaresco, poi nella zona del Roero e abbiamo fatto un lavoro e poco per volta ho incominciato con la biodinamica su quelli che sono i nostri cru principali e nell'arco di 7, 8, 9 anni siamo arrivati a condurre totalmente i nostri 170 ettari in biodinamica certificati biologici dal 2015. Questo perché il passaggio è graduale, ovviamente i lavori sono diversi, ci sono altri tipi di lavorazione che bisogna aggiungere rispetto a quello che è il biologico normale, perciò il passaggio è stato graduale anche perché volevo capire se era totalmente fattibile. In quel periodo mi sentivo sempre dire un mantra che se fai il biologico non porti a casa l'uva tutti gli anni. Io ho iniziato la conversione nel 2013, il 2014 è stata un'annata severa per quanto riguarda il lato climatico e sono riuscito a fare una vendemmia normalissima come ero sempre riuscito a fare anche quando utilizzavo i prodotti convenzionali e questo mi ha convinto ancora di più, è stata forse l'annata che mi ha convinto che con la preparazione e l'organizzazione giusta si può fare tutto. Alessandro, innanzitutto benvenuto anche da parte mia. Ci hai raccontato quindi che Ceretto è un'azienda di famiglia e vorrei capire un po' meglio la storia della famiglia e la storia dell'azienda e che cosa rappresenta oggi Ceretto per le Langhe. Perché so che è un nome abbastanza pesante, nel senso è un nome storico, mi piacerebbe che ci raccontassi la storia e cosa rappresenta oggi. L'azienda parte negli anni 30 con mio nonno Riccardo. Mio nonno abitava a Santo Stefano Belbo, appunto in periodi che Fenoglio descrive della Malora. Era veramente una zona poverissima. La Langha non era sicuramente quella che viviamo oggi, riconosciuta e forse sicuramente una delle zone in alba molto molto benestante. Lui si trasferisce da Santo Stefano Belbo nella città, cioè Alba Vrà, e incomincia a fare le consegne per un'azienda vinicola. Poi la sua verba, il suo modo di essere, che era una persona, la sua anima era molto commerciale, si mette a fare quello che possiamo descrivere con la figura del negociant, cioè comprare vino e rivenderlo, comprare uva, vinificarla e rivenderlo. Lì si parlava ancora di damigiane, forse le cantine si contavano sulle dita di due mani e c'erano ancora molto il vino della casa, o se andava a bere il vino bianco e il vino rosso, e chi etichettava aveva un marchio o comunque un brand su un'etichetta erano veramente pochi. La seconda generazione, che sono appunto mio padre Marcello e mio zio Bruno, arrivano a cavallo degli anni 60-70 e loro capiscono da subito che per poter fare qualità bisogna iniziare dalla terra, cioè devi poter gestire il ciclo dall'inizio alla fine. E avendo la fortuna di lavorare per il nonno Riccardo, che era appunto un negociante, che comprava uve da tantissime vigne, hanno incominciato ad investire e a comprare le vigne che vinificando pensavano fossero migliori. A cavallo degli anni 70 acquisiscono un vigneto barbaresco nella zona dell'Asili e costruiscono la prima cantina. Successivamente investono anche nella zona del Moscato, forse perché le origini erano quelle. Nel 1976 apriamo la Vignaioli di Santo Stefano, che è un'azienda staccata a livello di gestione, ma che viene commercializzata in noi ed è in proprietà con degli altri soci nella zona del Moscato. Successivamente nasce la seconda cantina, che è la cantina di Briccorocca Castiglione Falletto, dove vinifichiamo appunto i nostri cru di Barolo. E poi nel cammino, perché comunque sono due persone che affermarle è veramente difficile, nell'85 creano un vino bianco che oggi per noi è una nostra bandiera ed è stata anche una nostra fortuna, cioè investendo nella zona del Roero e iniziando appunto a vinificare l'Arneis, che è una delle pochissime varietà a bacca bianca tradizionali della zona della Langa. Nel 1990 ci trasferiamo dalla cantina Headquarter di Alba, appena fuori Alba, comprando una proprietà che si chiama la Tenuta Montsordo Bernardina, che è oggi la sede della Ceretto. Poi nel frattempo le risorse, soprattutto di Bruno, erano infinite, e poi soprattutto perché loro pensano che la loro fortuna arrivi dalla terra, arrivi dal posto in cui sono nati, decidono anche di investire nel mondo della nocciola. In Langa non si può piantare le vigne in piano e a nord, e allora est, sud e ovest abbiamo le vigne, e una cultura che è molto diffusa nell'Alta Langa, è a planocciola, e aprono un'azienda per la produzione del torrone d'alba. Tra altri progetti a cavallo degli anni 2000, anzi intorno al 2005, mio zio ha sempre avuto il sogno di aprire un ristorante. Ci ha sempre raccontato che è stato a mangiare in ristoranti praticamente per tutta la sua vita, addirittura ci raccontava che era in grado di fare due pranzi e due cene per andare a trovare il maggior numero possibile di clienti, e appunto nel 2005 inauguriamo un ristorante ad Alba, che si chiama Piazza Duomo, appunto cercando di puntare al massimo e rincorrere le stelle Michelin. Abbiamo avuto la grandissima fortuna di iniziare e conoscere uno chef che secondo me è uno dei più grandi geni culinari italiani, ma senza esagerare penso a livello europeo-mondiale, che è il chef Enrico Crippa. Il progetto di mio zio si è avverato nel 2012 con l'assegnazione della terza stella Michelin, che appunto era il sogno nel cassetto di Bruno. Devo dire che sei stato bravissimo Alessandro, perché condensare, concentrare così tanti anni di storie, così tante attività, visto che comunque noi la storia di Ceretto la conosciamo, avendo vissuto in Langa comunque tre anni, sei stato veramente bravo, e congratulazioni insomma per la vostra storia. Posso dire e garantire agli ascoltatori che in realtà c'è tanto, 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 tanto altro, e devo dire che qualsiasi progetto che avete attivato ha raggiunto i livelli massimi, dal ristorante all'Arneis, che è un successo commerciale, è una case history commerciale incredibile col vostro blanché, eccetera, eccetera. Io ti chiederei a questo punto anche un'informazione un po' più specifica. Siccome sei l'enologo comunque e hai la conduzione tecnica dell'azienda, puoi darci un quadro numerico in termini di ettari e di bottiglie prodotte, così diamo un quadro generale anche della tua attività nello specifico. Sì, allora, a me non piace dare tanto i numeri perché spesso i numeri vengono associati poi a se fanno tante bottiglie non sono vini buoni o se per fare vini buoni bisogna fare poche bottiglie. Però, allora, ti posso dire, noi gestiamo circa 170 ettari di vigna nella Langa e 30 ettari nella zona del Moscato. Ovviamente la produzione è sulle varietà e le varietà albesi della Langa. A livello di superficie l'estensione più grande è la coltivazione appunto dell'Arneis. Abbiamo circa 70-80 ettari perché poi bisogna sempre calcolare che abbiamo sempre qualche vigneto che viene espiantato e ripiantato e poi essendo una famiglia molto, molto dinamica siamo sempre in ricerca di nuovi vigneti e nuove zone evocate per poter plantare le varietà. A seguire la seconda varietà più coltivata è il nebbiolo. Ovviamente il nebbiolo perché? Perché nella zona di Alba viene prodotto il nebbiolo d'Alba. Nella zona del Barolo appunto il nebbiolo diventa Barolo e nel Barbaresco diventa Barbaresco. Siamo proprietari di una quindicina di ettari nel Barolo. A oggi vinifichiamo diversi cru nel comune di Lamorra il Cru Brunate. Poi siamo presenti dal 2015 nella zona di Monforte con il Cru Bussia, a Castiglione Falletto con il Bricco Rocche che è un monopole ed è la sottozona più piccola tra tutte le sottozone del Barolo. subito adiacente al Bricco Rocche vinifichiamo e produciamo da un anno abbiamo messo in etichetta un vino che si chiama Le Rocche di Castiglione e poi ancora un vigneto a Serralunga che si chiama Propò e un vigneto nel cuore di Barolo Cannubi. Siamo riusciti nel 2003 ad acquistare il cucuzzolo di questa denominazione che è molto famosa perché storicamente si pensa abbia dato forse non l'origine al Barolo però l'etichetta più vecchia con una sottozona appunto in etichetta è appunto il Cannubi se parliamo di Barolo. Poi siamo proprietari di un vigneto ad Asili nel comune di Barbaresco, siamo proprietari di un altro vigneto nel comune di Traeso nella sottozona Bernadotte e ultimamente da 4-5 anni siamo proprietari anche nel comune di Neive nella sottozona Gallina che è una delle ultime crew che è entrato a far parte del nostro portfoglio di quelli che vengono chiamati crew o single vineyards. Poi ovviamente nelle varietà minori abbiamo anche produciamo dolcetto, produciamo barbera, inoltre vinifichiamo anche il Riesling perché quando è stato deciso di comprare un po' di appezzamenti di nocciola abbiamo comprato un'azienda agricola nel comune di Albaretto della Torre che è abbastanza elevata e visto che producevamo già tantissimi vini e tantissime varietà e la zona era molto elevata abbiamo deciso di sperimentare il Riesling e comunque rimane una piccolissima produzione produciamo 3-4 mila bottiglie d'anno nella zona del Moscato invece siamo proprietari di circa 30 ettari la produzione varia dipende sempre dall'annata ci avviciniamo al milione di bottiglie perciò ovviamente questo numero di bottiglie fluttuo tantissimo e poi c'è un altro discorso che per quanto riguarda i crew cerchiamo di vinificarli solo nelle grandi annate allora il clima è cambiato mio padre vinificava i vini di Bricorocchio e di Bricosili più o meno 4-5 annate su 10 negli anni 80 e precedenti anzi io considero il 96 l'annata in cui c'è stato il turning point oggi invece questi crew vengono vinificati proprio perché il cambiamento climatico è sicuramente un qualcosa di serio a cui dobbiamo come si può dire pensare e fare dei ragionamenti però il cambiamento climatico nella Langa ha tolto praticamente la pioggia autunnale perciò la grande annata negli anni 80 era di solito preclusa da un clima molto umido nei periodi di settembre ottobre adesso questa mancanza di pioggia ti permette in vendemmia di non avere problemi di botrite non avere problemi legati alle malattie allora la capacità di fare grandi vini è aumentata a livello numerico su un numero di annate ma sei stato chiarissimo grazie mille e grazie anche per aver fatto questo proprio quadro generale complessivo della vostra realtà e degli ettari e delle bottiglie insomma che ogni giorno devi fronteggiare però io direi di entrare un po' nel vivo e il motivo per cui ti abbiamo coinvolto in questa chiacchierata è per parlare della tua filosofia hai sposato nonostante tu abbia studiato cose differenti il biologico e anche il biodinamico quindi hai fatto l'ulteriore upgrade e io direi di affrontarli singolarmente quindi partirei dal biologico e siccome chi ci ascolta è un pubblico molto variegato cioè abbiamo il grande appassionato di vino come abbiamo magari quello che beve vino però non ha una conoscenza così approfondita della viticoltura puoi raccontarci cosa prevede una viticoltura biologica e quali sono anche i benefici e i miglioramenti che hai notato utilizzando questo metodo allora io credo moltissimo nella biodinamica il biologico è un passo obbligato per me il biologico è lo stesso tipo di viticoltura ma non potendo utilizzare concimi e prodotti sistemici sei obbligato a utilizzare prodotti di copertura i prodotti di copertura come rame e zolfo ovviamente vengono chiamati così perché rimangono sulla superficie della foglia e non penetrano nella pianta come fanno i sistemici o addirittura i citotropici che sono appunto i prodotti di sintesi che vengono utilizzati per combattere le avversità il passo comunque è diverso perché se tu devi dare un sistemico in vigna sai che la durata è dai 10 ai 15 giorni perciò puoi calendarizzare e più o meno sapere il numero di trattamenti invece quando tu passi al rame all'ozolfo essendo prodotti di copertura se successivamente al trattamento hai una quantità d'acqua cioè una pioggia abbondante sei obbligato a ritrattare perché è come se fosse non so una crema per il sole no cioè se te la lai se fai una doccia sei obbligato a ridarla qual è il problema è che la langa ha suoli praticamente argillosi limo argillosi e tu non puoi rientrare immediatamente dopo una pioggia poi soprattutto perché sono in pendenza con un trattore con un cingolo perché da noi si usano i cingoli a ritrattare perciò la difficoltà è stata organizzare altri metodi che poi alla fine sono quelli della pompa spalla dalla classica pompa spalla che veniva utilizzata in passato prima della meccanizzazione cioè prima dell'arrivo dei trattori oggi riusciamo ad entrare in vigna con le pompa spalla soprattutto nel periodo primaverile siamo in grado appunto di ritrattare con la pompa spalla in due giorni tutta la superficie aziendale e se invece il trattamento è fattibile con i trattori un giorno un giorno è qualcosa e questa è la grande difficoltà che bisogna superare quando tu passi dal convenzionale al biologico la biodinamica invece è un qualcosa di più io vi ho detto il motivo perché ho deciso di fare la biodinamica era appunto questa queste analisi del suolo che vedevano un suolo più salubre ma salubre da un punto di vista che io che ho finito gli studi negli anni 2000 veniva forse poco notato o poco valutato i bourguignon non fanno nient'altro che vedere qual è la vita che c'è nel suolo cioè la microflora e la microfauna che vivono nel terreno e a seconda di quanto questa microflora soprattutto la microfauna è biodiversa il suolo è più salubre prima nel periodo precedente o comunque 20-30 anni fa il discorso era addirittura diverso tutti i vigneti venivano lavorati venivano addirittura frafresati cioè si cercava di togliere la competizione alla vite perché si pensava che se la vite poteva prendere tutto quello che il terreno gli dava poteva trarre beneficio poco per volta si è capito che invece la biodiversità porta all'equilibrio cioè le malattie arrivano più facilmente dove c'è la monocultura noi facciamo vigna e la vigna è una cultura intensiva cioè dove è la vigna non è come nel passato dove si consociava e si piantava in mezzo al filare patate o qualsiasi altra cultura perciò la monocultura può essere solo contastata cercando di creare appunto un ambiente biodiverso a livello di microflora che ovviamente porta un ambiente biodiverso a livello di microfauna abbiamo incominciato a introdurre sovesci siamo ritornati all'utilizzo dell'etame questo perché il suolo molto lavorato prima di tutto è suscettibile a una problematica che soprattutto si verifica d'estate che se tu hai un suolo lavorato e arrivano i temporali più violenti perché d'estate di solito la pioggia è più violenta si ha il fenomeno dell'erosione perciò tu lavori per creare un terreno di superficie sano e poi tutte le volte che piove viene dilavato questo pensate che l'ho notato quando eravamo in un nostro vigneto a fare i profili con i bourguignon loro solo con l'occhio in un vigneto che era fai conto 50 filari perciò 50 filari per due metri sono 100 metri mi hanno fatto notare come i pali di testa o comunque i pali della vigna che di solito sono 4 metri perché sporgono due metri o due metri e mezzo ma per tenere i fili e per non cadere entrano un metro un metro e mezzo in cima al vigneto uscivano di 3 metri abbondanti mentre al fondo del vigneto cioè 40 50 filari sotto uscivano solo di un metro e mezzo questo cosa vuol dire che in 30 anni in quella vigna fresando lavorando il suolo e successivamente alle piogge tutto il terreno che era pari nel momento dell'impianto è scivolato verso il fondo perciò tu hai la parte alta del vigneto sulla terra madre del barolo e la parte bassa che poggia su un metro e mezzo di terreno culturale perciò la vita è sicuramente più rigogliosa perché un terreno culturale ricco di lavato è più nutriente però va a discapito di quello che per me è il terroir perché il terroir si verifica molto di più quando la radice arriva a dialogare con la roccia madre poi da noi non abbiamo rocce noi abbiamo principalmente quello che chiamiamo tu che sono queste marne che sono molto presenti nella nostra zona noi l'abbiamo già fatto nel nostro ultimo episodio interludio spiegare un po' che cos'è la biodinamica però dato che tu c'hai veramente le mani in pasta vuoi spiegare a noi e a chi ci ascolta nel pratico in cosa consiste nel senso ci ho già parlato di sovesci ci ho già parlato dei trattamenti di copertura che sono ammessi nel biologico ma che sono poi utilizzati anche in biodinamica però nel concreto da una produzione convenzionale quindi che non ha limitazioni diciamo ma segue soltanto la regolamentazione agricola però non deve sottostare disciplinari biologici o biodinamici cosa cambia rispetto a una produzione biodinamica ma allora principalmente la biodinamica è un'agricoltura biologica a cui aggiungi trattamenti biodinamici e utilizzi il compost biodinamico la biodinamica nasce nel 1925 da una persona chi conosce il mondo vinicolo sa chi è che è Rudolf Steiner che era come si può dire un illuminato io lo considero veramente uno di quelle persone che quando passeranno gli anni rimarrà e verrà ricordato come sono stati pochi personaggi nella storia cioè nel presente tantissimi sono famosi ma poi se devi andare a vedere in tanti ambiti quelli che sono rimasti sono veramente pochi il compost biodinamico è un normale letame che viene praticamente fatto compostare questo basta basta pensare che quando io sono entrato in azienda il letame veniva messo fresco sui terreni in quantità enormi e poi veniva interrato il letame per diventare scambiabile con gli microrganismi e con le piante deve appunto trasformarsi in humus cioè in questa specie di terriccio marrone che si trova se voi andate in un bosco togliete le foglie e scavate vedete che questa terra marrone è molto presente che è un complesso argillo umico che permette appunto di dare le sostanze nutritive nel modo giusto alla pianta in questo cumulo di letame vengono inseriti preparati 502 503 504 5 6 e poi errorati col 507 che è la valeriana io non non voglio assolutamente convincere nessuno e non per me ognuno ha la propria idea perché appunto questo è il motivo perché la biodinamica oggi fa un po' difficoltà nel mondo scientifico solo un preambolo io sono uscito dagli studi che ero totalmente scientifico poco per volta mi sono allontanata adesso non faccio una forzatura ma faccio quasi l'opposto di quello che mi aveva insegnato a scuola ma perché l'ho imparato sulla mia pelle e poi perché generalizzare è proprio l'errore più grande che si può fare e oggi per la velocità della comunicazione per svariati motivi si fa spesso la biodinamica su un ettaro è un discorso la biodinamica su 10 è un altro la biodinamica su 50 è un altro la biodinamica su 170 è un altro la biodinamica in Piemonte è una cosa la biodinamica in non so in Sicilia è un'altra cioè non la biodinamica l'approccio agricolo perciò non si può dire che questo è giusto e lo è giusto ovunque mentre nel convenzionale si tende a dire questo un prodotto va bene qui e va bene ovunque il glifosate è un erbicida in Piemonte e lo è anche in Argentina il mancozeb è un antiperonosporico dal polo sud al polo nord mentre nell'agricoltura biologica e biodinamica ci si adatta perché poi per esempio basti pensare che ci sono zone nel mondo dove non esista peronospora in Oregon non hanno problemi di peronospora in altri ci sono altre malattie noi oltre oltre a queste malattie oggi abbiamo altri problemi che sono due nuovi flagelli contemporanei che nella nostra zona si chiamano flavescenza dorata e maldellesca e a oggi non sappiamo ancora qual è il metodo di lotta per poter liberarsi di queste due malattie però questo succede sia nel convenzionale che nel biologico che nel biodinamico la soluzione non esiste a 360 gradi successivamente ci sono altri due trattamenti che sono quello del corno letame e del corno silice il corno letame è dell'etame di vacca messo in corna di vacca e interrato per sei mesi il corno silice è del sale di quarzo del fine sale di quarzo che viene interrato negli sei mesi successivi cioè il corno letame viene messo sottoterra nel periodo autunnale invernale il corno silice viene interrato nel periodo primaverile estivo alla fine il corno letame è una bomba microbiologica cioè è un concentrato di microorganismi o anche magari di sostanze inzematiche di un qualcosa che dà un impulso al terreno a spingere meglio quello che è dal lato nutrizionale il rapporto tra il terreno è la pianta e il corno silice invece essendo una sabbia viene dinamizzata e spruzzata in aria proprio per penso a livello scientifico sia un potenziamento della fotosintesi poi chi ci crede ci crede e chi non ci crede continua a fare a fare quello che crede che sia giusto io faccio biodinamica perché e questo l'ho notato e mi dispiace un po' perché viaggio e vedo molto adesso ovviamente sono più orientato a andare a visitare aziende biodinamiche o comunque simile alle mie per poter imparare a vedere come affrontano diverse problematiche però ho notato tantissimo che la gente fa biodinamica ma non sa chi è Rudolf Steiner se tu vuoi capire la biodinamica non devi metterti a fare il pH l'acidità o una qualsiasi analisi ti devi andare a capire chi è Rudolf Steiner cosa dice Rudolf Steiner e visto che alla fine sfocia in questo mondo che appunto secondo Rudolf Steiner esiste ma anche secondo me esiste che va al di là del materiale cioè non ci sono solo le forze fisiche ci sono altri tipi di forze influenzate anche dagli astri e quando si parla d'asti basta pensare che il sole è un astro la luna è un astro perciò se influenzano le maree se influenza il sole influenza la vita e poi non lo consideriamo penso che sia lì l'errore non si può fare biodinamica se non hai letto e se non sai chi è e cosa dice Rudolf Steiner hai toccato un paio di punti interessanti cioè il fatto che tu uscendo dall'università comunque uscendo da una formazione accademica scientifica e immagino che al tempo fosse affrontata magari anche in maniera più rigida e anche perché magari le conoscenze erano anche di meno rispetto a quelle che si hanno adesso e anche l'approccio all'agricoltura è diverso ma poi col tempo con la pratica e facendo agricoltura nel concreto facendo viticoltura nel concreto hai iniziato a deviare a derogare da quelli che erano stati gli insegnamenti e questo porta un po' anche la discussione sulla distanza tra la teoria e la ricerca e poi la pratica che è come si sviluppa sul campo e sul terreno questa cosa può essere applicata all'agricoltura ma può essere applicata a tanti altri ambiti però appunto quello che vede un agricoltore e che un agricoltore fa diciamo un po' a sentimento nel senso ascoltando la propria produzione e adattandola di anno in anno imparando dalle osservazioni dell'anno precedente sono comunque delle cose che non sempre vengono rispecchiate in quello che poi diventa il mainstream quello che diventa la teoria quindi questo è sicuramente un punto importante e che fa dire a chi fa biodinamica c'è un senso dietro perché lo posso osservare posso in qualche modo anche comunicarlo ciò nonostante recentemente è stata discussa alla camera una legge sul biologico e la biodinamica è stata completamente esclusa dalla da quella quantomeno che era un'associazione l'abbiamo definita la Tucur al biologico quindi se nella nella prima proposta biodinamica e biologico mi ero messo sullo stesso piano nella in quello che è stata successivamente approvata no ed è stata secondo alcuni una vittoria del mondo scientifico che aveva espresso tantissime perplessità su questa equioparazione biologico-biodinamico sono espressi contro l'inclusione del biodinamico in questa proposta di legge tanti elementi di spicco nel mondo mainstream scientifico cosa ne pensi cioè pensi sia stato giusto escluderla anche se tu credi nella cosa e sostieni che sia uno stile produttivo una filosofia produttiva che funziona perché è la vostra azienda è un'azienda che produce e anche bene quindi evidentemente se riuscite a produrre bene mettendo in pratica la biodinamica vuol dire che è un modello che funziona ma ciononostante pensi sia stato giusto escluderla e non compararla completamente al biologico questo è un tema su cui si discute tanto in questo periodo però io non faccio politica e comprendo benissimo che il mondo scientifico non capisca la biodinamica proprio per i motivi che vi ho detto prima perciò dal punto di vista scientifico penso che abbiano fatto la cosa giusta cioè te l'ho detto la biodinamica non si può misurare facendo il pH di un terreno o andando a cercare di ridurre la qualità a due numeri però allo stesso tempo il metodo biodinamico utilizzato nel modo giusto può essere e può dare risultati ovviamente ci devi credere qual è il problema di oggi è che oggi viviamo in un mondo che va alla velocità della luce perciò tu il risultato lo vuoi prima della prova chi risponde che fa biodinamica è in un anno ho visto i risultati due anni ho visto i risultati fa marketing non fa biodinamica io mi auguro di poter dire fra vent'anni ho preso la scelta giusta perché ovviamente dei cambiamenti li vedi ma i cambiamenti sono anche portati da decisione se io prima fresavo la vigna e adesso ci metto i sovesci ovviamente vedo la biodiversità questa è politica io facevo biodinamica prima di questo impasse parlamentare sul biologico il biodinamico e continuerò a farla dopo forse sarebbe una cosa più utile per Demetero o per le associazioni o per chi fa politica guardate che la politica esiste anche nell'interno della biodinamica se voi parlate con i produttori biodinamici ci sono quelli che ti dicono no ai lieviti selezionati e altri dicono sì alcuni che dicono no alla solforosa e altri che usano la solforosa alcuni che dicono che la temperatura va lasciata andare perché se il processo è naturale deve essere così e altri che la controllano la politica esiste in molti ambiti e tendenzialmente siamo molto faziosi difendiamo a prescindere le nostre posizioni senza ragionarci sopra perciò è giusto se quello che viene fatto viene fatto dalla mia squadra io vedo queste cose sia nell'ambito generale che anche nel piccolo perciò penso che l'agricoltura è una cosa che cambia proprio perché ogni zona è diversa ha un clima diverso ha un suolo diverso c'è chi fa la viticoltura in pianura c'è chi la fa in collina e allo stesso tempo penso che il sapere contadino di cui tanti si vantano è andato perso basti pensare che una vigna hai sette anni per impiantarlo ma i sette anni per impiantarlo era forse veramente un sapere contadino perché ti diceva dopo trent'anni che tu o cinquanta o sessanta che tu hai una cultura forse lasciare alla natura o comunque utilizzare altri tipi di cultura potrebbe essere veramente la chiave di risanamento di un terreno quanti produttori di vino fanno passare più di un anno tra l'espianto e l'impianto oggi in più anche lì senza biasimare nessuno tutte le attività agricole sono attività economiche tu devi pagare i tuoi dipendenti sia nell'annata buona che nell'annata non buona e il tuo conto economico deve poter sorreggersi ogni anno perciò è molto difficile dare una risposta che faccia tutti contenti e dare una risposta che sia giusta in ogni parte del mondo e per le miriadi di tipi di culture di agricoltura che vengono fatte perciò penso che uno in coscienza debba fare il suo piccolo esamino e prendere la decisione il cambio coincide anche nel periodo in cui sono diventato papà io pensare di sfruttare una terra trarne il massimo possibile oggi sapendo che rovino quello che lascerò ai miei figli non è accettabile prima che non lo ero magari non ci pensavo adesso che lo sono diventato che ho tre figli è diventato anche un obbligo non si può pensare di sfruttare al massimo qualcosa senza lasciarlo a quelli che che verranno dopo di noi mi hai fatto un assist pazzesco perché vengo da un'azienda familiare e avrei voluto chiudere come ultima domanda chiedendoti sul passaggio generazionale cioè mi spiego meglio torniamo indietro ci hai detto che hai fatto studi scientifici sei entrato in un'azienda che era già probabilmente molto organizzata e che aveva già una visione come è stata accettata dal tuo papà e da tuo zio la scelta drastica e importante che hai fatto e capisco che non è ancora misurabile il lavoro che hai fatto ma oggi cosa ne pensano tuo papà e tuo zio della scelta che tu hai portato in azienda ma penso che siano contenti penso che volevo solo magari risponderti a livello di agricoltura magari fra vent'anni potrò vedere le differenze sui vini certo che c'è stato un cambiamento ma questo più per il lato enologico cioè io penso che la gente si riempa alla bocca di terroir di vigna e tutto ma è l'enologo che dà il gusto al vino è lo stile che dà il gusto al vino perciò nei vini avendo come si può dire ridotto ai minimi termini quelli che sono i tool come si può dire gli strumenti enologici si vede un cambiamento se tu usi il 100% di legno sui tuoi cru è molto più difficile vedere le differenze perché una tostatura forte come andava di moda a cavallo degli anni 2000 quella copre copre tutto perciò a livello enologico io vedo una leggera differenza e che la differenza qual è? è che ci sono le differenze a livello di terroir però devi saperle sottolineare le devi accettare prima magari si aveva un'idea del vino perfetto come si ha un'idea della donna perfetta come si ha l'idea del perfetto invece oggi ho capito che anche il difetto è un vantaggio perché poi alla fine la bontà è data dalla diversità certo che se prendo 100 punti da Parker da Galloni 7 bicchieri 8 grappoli sicuramente sono contento ma sono molto più contento quando un degustatore normale assaggia un mio vino di Saralunga rispetto a un vino di Lamorra e sente che c'è una differenza se tu concentri se tu incominci a utilizzare tostature pesanti o comunque tecnologie che vanno a marcare poi quello che è il gusto del vino queste differenze si assottigliano e poi bisogna anche fare un'altra differenza che adesso stiamo parlando di vini terroir ma nel mondo poi ci sono i vini varietali e ci sono tantissime tipologie di vini che sono brand perciò hanno bisogno di riconoscibilità i vini terroir sono una nicchia perciò bisogna anche sapere in che ambito e di che tipi di vini stai parlando tornando al cambio generazionale penso che la fortuna sia stata che i nostri genitori Bruno e Marcello ci hanno lasciato praticamente fare quello che volevamo e nell'ambito della terza generazione cioè io mia sorella mio cugino Federico e mia cugina Roberta ognuno si occupa di un ambito diverso perciò se tu non ti trovi tutti i giorni a dire facciamo una riga lì la spostiamo se parli delle stesse cose prima o poi sei obbligato a scontrarti e il problema nella famiglia è che se voi litigate con vostro padre con vostra sorella ognuno rimane sulle posizioni e non viene presa la decisione il segreto del successo è prendere le decisioni e correggere l'errore non rimanere fermi e poi non sapere se quello che volevi fare sarebbe stato giusto o sbagliato perciò l'importante è fare le cose e poi essere abbastanza intelligenti da capire se quella cosa ha portato vantaggio o svantaggio questo che ci hai dato è un consiglio secondo me importantissimo anche perché molto spesso ci si fossilizza e non si va avanti perché si incontrano delle divergenze da questo consiglio vorrei passare a un altro consiglio passiamo al momento piccola pasticceria che è il modo in cui ci piace chiudere le nostre interviste e in cui generalmente chiediamo ai nostri ospiti un consiglio su un libro un film un album un brano musicale un podcast qualsiasi cosa l'importante è che sia stata importante per te nel tuo percorso e che quindi ti senti di consigliare a noi e a chi ci ascolta allora per i libri io da quando ho conosciuto Rudolf Steiner leggo solo più Rudolf Steiner perciò penso che una persona non possa non leggere la filosofia della libertà che è come si può dire il libro che per me dimostra la grandezza di Rudolf Steiner che mi sembra l'abbia scritto intorno all'età di 30 anni perciò se uno si legge la filosofia della libertà e dice l'ha scritto un ragazzo di 30-33 anni capisce la grandezza poi altri libri di Steiner la scienza occulta se volete proprio andare a cozzare con il mondo scientifico oppure la concezione goetiana del mondo ce ne sono tantissimi verità e scienza teosofia la saggezza dei rosa croce poi Steiner ha scritto una ventina di libri però l'opera omnia arriva a più di 300 libri questo perché lui in circa 20 anni ha fatto 6.000 conferenze fate un calcolo e andate a vedere che vuol dire che ne ha fatte quasi una al giorno o se no due al giorno per 20 anni se si prendeva i sabati e le domenica a fare quello che piaceva a lui ed varia da appunto all'agricoltura alla sociologia alla filosofia alla pedagogia cioè ci sono alle esegesi dei Vangeli a comunque cose che sono appunto in un ambito spirituale esoterico e altre letture che faccio sono comunque correlate a Steiner cioè leggo libri di persone che magari sono vissute dopo Steiner e in un modo in un altro cercano di dare una lettura più comprensibile perché comunque dovete pensare che Steiner era un grande letterato dell'inizio del Novecento e leggere i suoi libri ci va uno o due libri per capire cosa scrive e poi devi incominciare a rileggerli perché tutte le volte che riprendi un libro in mano vedi che ti sei perso tantissime cose perciò non è facile però penso che sia fondamentale invece per passare ai podcast io ascolto tutti i giorni la zanzara ovviamente conoscete la zanzara di Cruciani questa disgraziata trasmissione che come si può dire mi aglieta tantissimo mi fa ridere tantissimo è indispensabile per poter andare a letto ridendo o dimenticando magari cose brutte che ti sono successe durante il giorno Alessandro dovevo aver scoperto che siamo entrambi degli zanzarosi ti ringrazio di cuore davvero per il tuo tempo e per questa piacevolissima chiacchierata speriamo di incontrarci anche di persona grazie davvero per me è stato molto utile penso anche per chi ci ha ascoltato grazie a presto e buona serata ciao siete benvenuti venitemi a trovare quando volete sapete dove sono sapete dove trovarmi grazie mille a presto ciao a presto hai ascoltato Juizy Tap per altri contenuti di Juiz ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuiz.net ciao ciao Grazie a tutti.